Ciao, bentornati nella FICA di MWVBlog E oggi cercherò di far entrare l'arnese dentro la FICA Perché altrimenti mi segano Dentro è più grosso che fuori Stavo bruciando tutto Mi son veramente arrapato come una belva Bene, il video del coso nella FICA finisce qui Io vi ringrazio di averlo visto E come al solito Restate sassi